Da quando Yom ha fatto questi yogurt golosi, ci si diverte molto di più in questa casa. Alleluia, signori. Grazie, James. Questo è il mio. E adesso è il mio. Alleluia. Alleluia. Prendilo su. Ma tu hai il tuo col cioccolato. Ma lo voglio anche col caffè. Bambino, una golosaccia ferma. Alleluia, la yogurt goloso che fa anche bene. Ma perché deve far bene solo a te? Alleluia. Uno yogurt così goloso che fa tornare bambini.